...formati durante le 24 ore sul mondo del radioascolto internazionale. Ora a proposito di social, questa trasmissione ne utilizza diversi, ma vi segnaliamo principalmente il canale YouTube che la domenica mattina alle 11.30 puntuali vi dà già la disponibilità della replica, e poi Facebook con la pagina ufficiale alla quale se vi fa piacere potrete cliccare Mi Piace, ma soprattutto col gruppo Obiettivo Dix su Facebook dove ci intratteniamo di questi appuntamenti radiofonici parlando di radio, di radioascolto, ma non soltanto. E grazie anche a tutti coloro che sono stati dei nostri il giorno dopo capolanno, quindi domenica 2 gennaio, a partire dall'amico Nino Marabello da Treviso, a partire da Roberto Paramello, dal Tonio Carreno da Mercogliano, da Davide Tambuchi in ascolto anche lui, così come Marco Bavrone, Massimo Poletti, Massimiliano Fiorillo, Pierluigi, Pasquale Grimaldi, Fabio Giovannoni, Alfredo Pavarino, Bruno Zeloni, Riccardo Chiari, Andrea Candela, Francesco Fiorentini, Luca Piscione, Graziano Braga, Limchaed da Tunisi, Aldo Alfiero, Domenico Sandino, Alessandro Signorini, Massimo Ballavedo, Ballavedova, Gianluca Perrone, Tyson Capacchione, Vincenzo Passalacqua, Alessandro Tordini, Giorgio Mossino, e mi approfitto per dare un saluto anche a tutti gli amici del team Pancebassi a Mondarone, erano tutti i rascoltoli e anche gli amici della sessione Ari di Astri, quindi altri a Giorgio, Federico da Alessandria, Lorenzo Italia Uniforme 1, Foxtrot November Golf, poi da Marina di Camerota, Italia Whisky 1, Alpha Hotel India, e da Madonna dell'Onetto, da suo QTH, anche Italia Uniforme 1, Delta Romeo Ienti. Grazie a Valentino Gianello, Riccardo Laffi, Pino Pae, Luca Giordano, Carlo Giordani, Fabio Berzano, Andrea Zamproni, Giorgio Brovita, Nello Argellini, Nicola Pisano, Luciano Arfuolo, Roberto Fiorentino, Gianluca Acquaviva, Gino Bortolaso, Paolo Zamparo, Mario Mussini, Mauro Cremonesi, Stefano Moroni, Carlo Notario, e tutti gli amici della sezione Ari di Pompei, Iader Iacopini, Mario Pegoraro, Gio Barbera, grazie anche ad Antonino Di Pietro, Mauro Pedemonte, Alfredo De Cristofaro, Antonino Di Pietro ancora, Gerardo Palmieri, Michele Gasparri, Diego Cerri, Guido Tedeschi, Ciro Albanese, Pino Inciarrano, Stefano Biale, Marco Bertola.